Saludato Gesù Cristo, sono qui nella mia cappella in Vaticano e davanti a me è Don Antonio che sta per venire nelle comunità parocchiali di Capitignano e Sieti. Io l'accompagno con la mia preghiera. Vi auguro che pensate fare un bel cammino nella fede. Viviamo in un mondo complesso, un mondo anche disorientato, che molto spesso incensa niente, segue gli idoli. Vi auguro di saper scoprire sempre di più la bellezza del dono di Gesù, la bellezza dell'amicizia con Gesù, la bellezza dell'affidarsi a Gesù perché è l'unico salvatore. Pensate uno scrittore russo, Dostoevsky, un giorno disse ho scoperto in un periodo difficile della mia vita, quando ero nel lager, ho scoperto che non esiste niente di più bello, niente di più profondo, niente di più perfetto, niente di più ragionevole di Gesù Cristo. Non solo non esiste, ma non può esistere. Vi auguro che facciate anche voi questa scoperta. Vi accompagno con la mia preghiera e la Madonna benedica e protegga il ministero, il servizio sassidotale di Don Antonio in mezzo a voi. Sia lodato Gesù Cristo. Non c'è sempre sia lodato.